Questa storia non può che avere inizio in un pomeriggio come tanti, del 1926, ad Atlanta, in Georgia. Immaginatevi una modesta casa coloniale e immaginatevi una donna, appena sposata, che invece di essere presa dalle incombenze della sua nuova condizione di donna, se ne sta rintanata per ore e ore dentro uno studiolo. La osserviamo mentre scrivacchia forsennatamente alla scrivania, allo sguardo grave di chi sente su di sé il peso del mondo, piccola di statura, i capelli raccolti secondo la moda del tempo, gli occhi grandi, verdi e vivaci come quelli della protagonista di cui scrive e di cui è ossessionata. Quella donna ha un sogno, scrivere della sua terra, la Georgia, di Atlanta e dello splendore dei tempi nelle grandi piantagioni del sud, prima della grande guerra, quella fra gli Yankees e i confederati e quella del successivo dopoguerra. Sogna di scrivere della fine di un'era, di un sogno, quello di un sud libero e indipendente. Sogna di raccontare del fallimento delle illusioni e la presa di coscienza di una nuova società nata dalle ceneri della guerra e che deve fare i conti con il proprio passato. Ci metterà dieci anni per completare quel libro, anzi il suo unico libro. Dieci anni in cui dalla sua penna verrà fuori il ritratto di una delle più grandi eroine letterarie moderne. Una donna dalla forza straordinaria, amata e odiata, venerata e rinnegata, affascinante e arrogante, che attrae e respinge con la stessa forza. Il ritratto di un'indimenticabile canaglia, Rossello Ara, nata dalla fervida fantasia di una scrittrice che quella stessa epopea l'aveva tenuta nascosta per anni come un tesoro nei meandri della sua mente, in attesa di darle finalmente vita. Margaret Mitchell. Ecco, senza di lei questo racconto non potrebbe esistere. Non esisterebbe Red Butler, non esisterebbe Tara, la terra degli Ohara, le dodici querce, non esisterebbero Melania né Ashley, non esisterebbe Via col vento. Successo letterario senza precedenti, da cui fu tratto uno dei colossal hollywoodiani più iconici della storia, è in grado di battere ogni record possibile e che ancora oggi rimane fra i film più visti di sempre. Tuttavia, la lavorazione del film fin dai suoi esordi fu tra le più contorte e controverse di sempre. Possiamo serenamente dire che fu un'impresa epica portarlo a termine. Benvenuti a The Hollywood Boulevard. Mettetevi comodi, oggi vi racconto la nascita di Via col vento. Il 15 dicembre del 1939 il Lois Grand Theatre di Atlanta è gremito oltre ogni aspettativa. immaginate una folla di 300.000 persone che si accalca lungo le strade di Atlanta. Il sindaco William Harsfield, per l'occasione, inaugura tre giorni di festività per tutti. Uffici chiusi e scuole chiuse per festeggiare lungo le vie della città. Il primo cittadino di Atlanta invita le donne a indossare crinoline e gonnelloni e gli uomini a sfoggiare favoriti, pizzetto e baffi a guisa degli ufficiali confederati. Per tre giorni Atlanta è invasa dalla musica delle bande ad ogni angolo di strada e dall'odore di mele candite e caramelle. Il clou dei festeggiamenti però è l'attesissima premiere di uno dei film più promettenti dell'anno, Via col vento. Fin dalle prime ore del pomeriggio decine e decine di limousine si avvicendano davanti la passerella che porta all'ingresso del teatro, per l'occasione addobbato con una ricostruzione a grandezza naturale della facciata delle dodici querce. Da quelle limousine scendono attori e produttori del film, accolti da uno sbandierare di bandiere confederate e urla di acclamazione. Ci sono proprio tutti, Vivian Lee, Clark Gable, Olivia de Eveland, o meglio quasi tutti, non c'è Leslie Howard, l'Ashley del film, tornata in Inghilterra per combattere con l'esercito inglese durante la seconda guerra mondiale, né il regista Victor Fleming, ai ferricorti con il produttore Olsetsnik, perché questi aveva dichiarato che Via col vento era stato realizzato da cinque registi diretti da Olsetsnik stesso, e quindi assente giustificato. Ma non ci sono neanche Hattie McDaniel, la mami del film, né Butterfly McQueen, Prissy, né tutti gli altri membri del cast di attori afroamericani, per via delle assurde leggi segregazioniste di Jim Crow vigenti in Georgia. Quando Gable viene a sapere che né la sua buona amica Hattie né gli altri attori sarebbero stati presenti alla prima del film, va su tutte le furie e minaccia di boicottare la premiere. Sarà la stessa Hattie a convincerlo ad andare, e alla fine Gable si presenta masticando veleno e facendo buon viso a cattivo gioco. Alla fine della lunga proiezione il pubblico si scioglie in un lungo interminabile applauso. Nessuno alla fine di quella primissima visione del film sapeva di stare assistendo alla storia, la prima di uno dei film più importanti, significativi ed irrompenti dell'intera storia del cinema mondiale. Niente sarebbe stato più come prima, dopo Via col vento. Ma come era nato tutto? Che aveva avuto la straordinaria e folle idea di trarre un film dal bestseller di Margaret Mitchell? E sottolineo folle perché ricostruire le vicende narrate in più di 500 pagine di libro, con i suoi assurdi intrecci e i moltissimi personaggi sullo sfondo della grande guerra, non era di certo impresa da poco. La storia ufficiale ci dice che a produrre il film fu David O. Selznick, l'ambiziosissimo genero del ben più potente Louis B. Mayer, CEO della Metro Golden Mayer. O. Selznick invece era capo della casa di produzione indipendente, O. Selznick Production. Ma forse non tutti sanno che i primi ad interessarsi ai diritti del romanzo furono quelli della Warner Bros. Jack Warner, boss della Major, fu il primo a captare il grandissimo potenziale dell'opera prima della Mitchell. Il libro, uscito nel 1936, racconta dell'epopea di una donna, Rossella O'Hara, ragazza del sud di sangue irlandese, fiera e caparbia, che osserviamo crescere da ragazzina corteggiatissima, viziata e impertinente, a donna forte che dopo la guerra trascina fuori la famiglia dalla fame, a donna scaltra e astuta che usa il suo fascino per diventare ricca e non dover mai più patire la fame. A donna disincantata, cinica e incattivita dalla vita che, preda del suo egoismo, distrugge tutto quanto ci è rimasto di buono nella sua vita, e cioè l'amore che Red Butler, il carismatico protagonista maschile, virile e temerario, prova per lei. Ma che lei riconosce quando ormai è troppo tardi, troppo distratta dal rincorrere un'illusione, un sogno, come dirà alla fine? Sullo sfondo i drammi e le conseguenze di una sanguinosa guerra civile, la nascita di un nuovo mondo, le disillusioni e i rimpianti che erano andati via col vento. Il libro aveva catapultato la Mitchell nell'Olimpo delle scrittrici più famose del mondo. L'opera le valse un premio Pulitzer e la candidatura al premio Nobel per la letteratura, pensate un po'. L'opera letteraria, come il film, avrebbe battuto qualsiasi record. In un mese arriverà a vendere 180.000 copie, ma a sei mesi dall'uscita ne avrebbe venduto addirittura un milione, e fin da subito la Mitchell si aspettava che qualcuno ad Hollywood volesse comprare i diritti del libro e farci un film. Tuttavia, le tematiche trattate nel libro erano veleno per Hollywood, specie per Ols etnik, che con i film sulla guerra civile non ci aveva mai preso. E ne nessun produttore volle scommetterci un centesimo. In realtà, pare che nessuno di loro, a parte Jack Warner, avesse davvero letto il libro. Si erano tutti limitati alla sinossi, focalizzandosi sul fatto che parlasse della guerra civile. E in ogni caso tutti, ragionevolmente, valutarono la produzione del film un'impresa folle. La NGM, quindi, si tirò fuori subito, così come la indipendente Ols etnik Production, che non voleva ripetere l'esperienza della Rosa del Sud, che fu un totale fiasco al botteghino. Jack Warner fu l'unico a tentare di chiudere l'accordo con la Mitchell per l'acquisto dei diritti, e tanto credeva di averci già messo le mani sopra che lo usò come pretesto per tenersi stretta la sua scalpitante attrice di punta, Bette Davis. A quel tempo inviperita con la Warner perché non le dava ruoli di spessore. Tuttavia Ols etnik cambiò idea e batte sul tempo la Warner acquistando i diritti dalla Mitchell per 50.000 dollari nel luglio del 1936. Cercò però un accordo con la major rivale per la distribuzione del film. La Warner accettò, ma pose un'unica condizione. La protagonista doveva essere interpretata da Bette Davis, la sua attrice di punta. Jack Warner però non aveva affatto i conti con Ols etnik, che in qualità di maggior produttore iniziò a dettare legge, cercando in tutti i modi di togliersi dai piedi la Davis. Per Ols etnik era davvero l'attrice meno adatta, la riteneva poco attraente e per nulla in linea con la Rossella che gli aveva in mente. Dovete trattare a lungo con la Warner, che nel pacchetto insieme alla Davis, offriva anche Errol Flynn nel ruolo di Ray Butler e Olivia de Heavyland. Quando la Davis seppe che nel film ci sarebbe stato anche Errol Flynn, decise di tirarsi indietro, mandando all'aria l'accordo, che in ogni caso era già saltato per la cocciutaggine di Ols etnik nel non voler la Davis. La Warner quindi batte in ritirata e Ols etnik tirò un sospiro di sollievo. A saltare però fu anche Errol Flynn, che non lo aveva mai convinto del tutto. Di quell'accordo iniziale rimase solo la The Heavyland, la futura Melania Hamilton, che un delusissimo Jack Warner provò in tutti i modi a dissuadere dal farne parte, minacciando di stracciare il suo contratto. Ma non solo, tanto c'era rimasto male che lanciò anatemi sul film. Sarà il peggior tonfo della storia del cinema, sentenziò in viperito. Ols etnik, solo al comando e senza più i legacci della Warner, si preparava alla sua più grande sfida, fare di via col vento il più grande film di tutti i tempi. Per la distribuzione del film si accordò con il suocero B. Meyer. Alla regia ingaggiò George Cukor, che, piccolo spoiler, non sarà l'unico regista del film. Inoltre sguinzagliò i migliori sceneggiatori di Hollywood con il mandato di portargli la miglior sceneggiatura possibile. E qui, amici miei, iniziano i problemi. Sì, perché condensare la storia di via col vento in quattro ore di film fu davvero un'impresa. Al punto che, quando finirono le riprese, la sceneggiatura non era mai stata dichiarata conclusa. So che sembra un paradosso, ma è così. La prima stesura fu affidata allo sceneggiatore Sidney Howard, un premio Pulitzer che verrà accreditato come unico sceneggiatore, anche se, di fatto, non fu di certo l'unico. Ma la sua prima versione risultò eccessivamente lunga e venne scartata. Venne ingaggiato anche lo scrittore Scott Fitzgerald e altri nove sceneggiatori. Dopo svariate revisioni, finalmente si giunse a una prima bozza. Ma Oseltsinick cambiava idea almeno una volta al giorno e le revisioni che faceva egli stesso la sceneggiatura andarono avanti per tutta la lavorazione del film. Con grande dispendio di energia e tempo da parte degli attori che ogni mattina dovevano aspettare il nuovo copione, imparare le nuove battute e dimenticare quelle scartate. E questo praticamente ogni giorno. Ma prima ancora della sceneggiatura e dei vari rimaneggiamenti bisognava trovare i protagonisti del film. Ingaggiare il partner maschile fu faccenda da poco rispetto a trovare la rostella ideale. Ma anche questo richiese una serie di compromessi che lo scaltro Oseltsinick non aveva considerato. Dopo aver scartato Errol Flynn dalla rosa dei candidati, Oseltsinick provò a ingaggiare Gary Cooper, attore della Samuel Golding Production, che ovviamente si rifiutò di prestarlo a produttore rivale. A quel punto Oseltsinick andò a inginocchiarsi ai piedi del grande capo, Louis B. Mayer, suo suocero, poiché aveva sposato la di lui figlia Irene Mayer. B. Mayer accettò di distribuire il film tramite una società satellite, la Loes, ma non solo. Aggiunse un milione di dollari al budget del film, ma soprattutto offrì all'ambizioso genero la sua punta di diamante, colui che Oseltsinick bramava per il ruolo di Red Butler. Il divo del momento è campione di incassi Clark Gable, il quale non fu particolarmente contento della scelta, anzi tutt'altro. L'attore era in un momento drammatico della sua vita. La sua seconda moglie, Rhea Lingham, non voleva concedergli il divorzio ed egli voleva disperatamente sposare Carol Lombard, il grande amore della sua vita. Non si sentiva di farlo e quindi rifiutò la parte. Ma B. Mayer non si arese di certo, ma per convincerlo ad accettare la parte era necessario che il produttore facesse uno dei suoi magheggi. Così andò da Rhea e le disse, se concedi il divorzio a Gable riceverai 500 mila dollari, ma devi fare in modo che egli accetti la parte perché altrimenti non vedrai mai il becco di un quattrino. Rhea così andò da Gable e gli disse, se accetti la parte in via col vento ti concedo il divorzio. E un riluttante Gable fu costretto ad accettare la parte. Ma per certi versi quel ruolo era scritto nel suo destino e prima ancora che la NGM entrasse in trattativa con Alls Ethnic, Carol Lombard, con cui aveva una relazione e che poi sposerà, che aveva letto entusiasta il libro, per tutto il tempo della lettura immaginò Rhett Butler con le fattezze dell'amato Clark. Ed era tanto il suo entusiasmo che comprò una copia anche per lui, che però si rifiutò di leggerlo. Qualche mese dopo accettò la parte di Rhett Butler. Famosa rimase la sua battuta, adesso so cosa prova una mosca a rimanere intrappolata in una ragnatela. Quando venne scelto pare che Gary Cooper abbia così commentato, sarà il più grande flop della storia e sarà Clark Gable a cadere con la faccia per terra, non io. Ma B. Mayer, che non faceva niente per niente, in cambio pretese che Alls Ethnic pagasse l'autocompenso settimanale all'attore e che la metà dei proventi del film finisse nelle casse della NGM. In pratica si trattò di una coproduzione. Tutta la faccenda della coproduzione però rallentò l'inizio della lavorazione del film, talmente tanto che la Warner Bros. fece in tempo a produrre e distribuire nel 1938 la sua risposta avvia col vento, Jezebel, con protagonista Beth Davis che per questo film vincerà il suo primo Oscar. Nel frattempo Alls Ethnic era alla ricerca della sua Rossella e fin da subito la faccenda si rivelò più complicata del previsto. In tutta Hollywood non c'era attrice che non volesse interpretare la parte di Rossello Hara e un po' per tastare il terreno e un po' per spingere il film ancora prima della sua uscita, a Oz Ethnic venne l'idea di indire un finto concorso per trovare la sua Rossella ideale, l'autentica bellezza del sud, e per farlo organizzò le audizioni ad Atlanta. Ai casting si presentarono 1400 aspiranti Rossello Hara. Questo creò attorno al film un richiamo e un clamore senza precedenti, ma di fatto nessuna di quelle aspiranti attrici ebbe mai chance di far parte delle candidate. No, Oz Ethnic non poteva rischiare di sbagliare la protagonista perché questo avrebbe compromesso l'intero film e quindi fu particolarmente esigente nella scelta anche solo delle candidate. Ciò di cui era certo è che non voleva una diva già affermata, ma una giovane attrice con un background solido in attesa della grande occasione. Oltre alla Davis, che si autoescluse dalla Rosa, ai provini si presentarono tra le più promettenti e talentuose attrici di quella raggiante Golden Age di Hollywood, tra cui Catherine Hepburn, che audizione dopo audizione si ritrovò faccia a faccia con Ozethnic. La Hepburn, che poteva contare sull'appoggio dell'allora regista e suo grande amico George Cukor, con una certa spavalderia, si rivolse al produttore e disse, sono io Rossello Ara, la parte è stata scritta per me. E Ozethnic tagliente replicò, non riesco proprio a immaginarmi Red Butler che ti corre dietro per 12 anni. Ai provini parteciparono anche le attrici Jean Arthur e Lucille Ball, la futura star di Lucy e io, ma anche Lana Turner, la cui carriera subito dopo il provino spicco il volo, Tallulah Bankhead, la favorita di un sondaggio distribuito agli Stati del Sud, l'immancabile John Crawford, grande amica di Gable e già sua partner sulla scena, e Miriam Hawkins. Alla fine di tutti i provini realizzati, Ozethnic scelse 30 attrici per fare loro uno screen testo. Tra loro anche la bellissima Paulette Goddard, la giovanissima compagna del grande cineasta Charlie Chaplin, che sbaragliò la concorrenza. E quando a tutti sembrò che la parte fosse praticamente sua, ecco sbucare dal nulla un'attrice di nazionalità britannica, una certa Vivian Lee. Vivian Lee negli Stati Uniti era praticamente una sconosciuta, in patria invece aveva già una consolidata carriera di attrice di teatro, con qualche film all'attivo. Sulla carta non aveva alcuna speranza di farcela. Un'attrice inglese che interpreta una tipica ragazza del sud non era proprio possibile. Poi c'era la Goddard, la preferita da Ozethnic. Ma l'agente di Vivian era nella scuderia dell'agenzia di Talents Count, Myron Sethnic, gestita dal fratello di David Ozethnic, e tramite il suo agente Vivian fece in modo di ottenere un provino. Quando Myron la vide rimase assolutamente incantato dalla sua bellezza. Così si procurò una copia di Elisabetta d'Inghilterra, girato insieme al futuro marito Laurence Olivier, e costrinse il fratello a dargli un'occhiata. Anche David Ozethnic rimase incantato dall'attrice, ma la giudicò inadatta poiché troppo britannica per il ruolo. Come avrebbe potuto imitare il particolarissimo accento della Georgia? E a malincuore la scartò. Aveva deciso, la Goddard avrebbe interpretato Rossella. Ma vedendo che David non era del tutto convinto, Myron fece in modo di forzare gli eventi. Voleva che il fratello la vedesse e si rendesse conto di avere davanti la sua Rosselloara. Così organizzò un incontro all'insaputo del fratello, fece arrivare da Londra la Lee a Los Angeles, e la condusse negli studios, lì dove la troupe stava girando la famosa scena dell'incendio di Atlanta. Myron la prese sotto braccio e la condusse davanti il grande produttore. E quando David la vide, qualcosa si accese nella sua mente. Era lei la Rossella che stava cercando, e quando le fece lo screen test, se ne convinse ancora di più. Vivian sembrava la personificazione dell'eroina di Via Colvento, così come lui se l'era immaginata. Ma ogni dubbio venne fugato quando apprese che i genitori di Vivian erano di origini irlandesi e francesi, proprio come i genitori di Rosselloara. Via Colvento aveva la sua eroina in carne ed ossa. Paulette Goddard, suo malgrado, si vide sfilare da sotto il naso l'ambitissimo ruolo di Rossella e proprio da un'attrice assolutamente sconosciuta e per giunta inglese. Anche se i malpensanti dissero che O. Zelsnick la scartò perché la Goddard non era sposata con Chaplin, e questo per Bea Mayer non era accettabile. Se non fosse stato per Chaplin, quasi certamente, il ruolo sarebbe andato a lei, si disse. E chissà come sarebbe andata la faccenda. Una versione diversa della storia invece suggerisce che Vivian Lee fosse stata scelta molto tempo prima e che tutto ciò che venne dopo, il finto concorso, i provini e la folgorazione per la giovane attrice britannica fosse stato creato ad hoc per il pubblico, che avrebbe mal visto un'attrice inglese nel ruolo di un'eroina del sud, mentre quell'aura di predestinazione e romanticizzazione attorno alla sua scelta avrebbero reso il pubblico meno ostile verso di lei. E così è stato. Con il cast al completo, le riprese potevano iniziare. Peccato che dopo appena tre settimane dall'inizio della lavorazione, O. Zelsnick licenziò George Cukor. In molti specularono su questo improvviso cambio di rotta. Alcuni dissero che fu fatto fuori su insistenza di Gable e le sue idee omofobiche, essendo Cukor gay. Ma non solo, pare che Gable lamentasse il fatto che Cukor, il regista delle donne come lo definì, fosse più interessato a fare emergere i personaggi femminili, per il regista molto più interessanti sul piano della trama, piuttosto che enfatizzare i personaggi maschili lasciati un po' ai margini della storia. Tanto che più volte durante le riprese, Gable stizzito avrebbe detto, datemi un vero regista. Ad ogni modo, non furono queste le reali motivazioni che spinsero al licenziamento di Cukor. La verità era che O. Zelsnick era un maniaco del controllo, il tipo di produttore che metteva tutto il cast e la troupe continuamente sotto pressione. E la sua ossessione nel voler far di via col vento il più grande film di tutti i tempi, alla fine distrusse il rapporto di fiducia con il regista George Cukor, con cui aveva già lavorato insieme, che mal tollerava le continue incursioni di O. Zelsnick sul set, assolutamente inusuali, le sue ingerenze, i suoi consigli su come Cukor avrebbe dovuto girare una scena, che limitavano il lavoro del regista. Ad esempio, O. Zelsnick pretendeva di essere informato da Cukor di ogni cambio scena o dialogo, in modo da non avere sorprese sgradevoli durante la consueta proiezione del girato della settimana. Per Cukor era inammissibile, era lui il regista, e nessun produttore aveva mai preteso di sapere prima cosa e come il regista avrebbe girato una determinata scena. O. Zelsnick invece lo pretendeva come. E ormai erano più le sfuriate fra i due che le scene girate, con grande dispendio di denaro e tempo. Ad ogni modo, alcune scene girate da Cukor rimasero nella release finale del film, altre furono rigirate. Sua è la scena in cui Rossella aiuta Melania a partorire il piccolo Bo, mentre gli Yankees bombardano Atlanta, così come la scena in cui Rossella uccide un soldato Yankee vagabondo e in cerca di denaro. Per la scena del parto di Melania, Cukor suggerì a Olivia de Havilland di fare un po' di pratica negli ospedali, osservando le partorienti e prendendo nota di ogni stadio del travaglio e del parto, del ritmo del respiro, delle esclamazioni, delle urla, delle partorienti nei momenti salienti del parto, in modo che la scena risultasse il più autentica possibile. Ella de Havilland eseguì alla perfezione, riuscendo a modulare la sua voce ogni volta che il suo personaggio era in preda a una contrazione, o a muoversi dando l'idea che stesse soffrendo davvero i dolori del parto. E per rendere ancora più autentica la scena al momento di girare, Cukor si posizionò ai piedi del letto e ogni volta che Melania aveva una contrazione, Cukor le stringeva la caviglia così forte che la povera Olivia non sapeva se urlare per davvero o fingere per la scena. Ad ogni modo, il 12 febbraio del 1937, Ozelsinick interruppe le riprese della scena del ballo di beneficenza per un annuncio. George Cukor non sarebbe stato più regista del film. Cukor era stato informato e non era sul set. Il resto del cast rimase attonito e sia Olivia che Vivian con ancora indosso i loro abiti di scena corsero da Ozelsinick per perorare la causa di Cukor, ma senza successo. Il produttore giustificò il licenziamento con l'estrema lentezza di Cukor nel girare le scene, lamentando che dopo due settimane la produzione fosse indietro di una settimana rispetto alla tabella di marcia. Ma quell'improvviso licenziamento non fece che aumentare il caos nella produzione e il ritardo nelle riprese. Cukor era stato per tutto il tempo una spina nel fianco per Ozelsinick perché a suo dire faceva troppo di testa sua e le loro idee non andavano più nella stessa direzione. A sostituire Cukor venne chiamato Victor Fleming che però era già alle prese con un altro film, Il mago di Oz. Ma non solo, nel bel mezzo delle riprese fu vittima di un esaurimento nervoso. A sostituirlo il regista Sam Wood che a sua volta fu sostituito da altri due registi. Sì, insomma, troppi registi e un solo uomo al comando, David Ozelsinick, l'uomo che rese il set di Via Colvento un vero inferno ma senza il quale il film non sarebbe stato portato a termine. Le riprese furono durissime e misero alla prova tutti i membri del cast della troupe. La prima scena girata in assoluto fu l'incendio di Atlanta. Dietro la scelta di girare l'incendio come primissima cosa c'era un'esigenza tecnica, sbarazzarsi di un vecchio set per fare posto al set di Via Colvento. Allo scenografo Wheeler venne in mente che, visto che il set andava dismesso, si potesse unire l'utile al dilettevole, diciamo così. Si decise così di innescare un incendio controllato negli studios in cui venne bruciato tutto, dando alla scena un'eccezionale autenticità. Ad ogni modo, visto che c'era una sola possibilità di girare la scena dell'incendio, tutti pregarono che non ci fossero intoppi e, per fortuna, la portarono a casa. E non è tutto, durante quella stessa giornata David Oseltnik trovò la sua rossella. Le parti dove gli attori recitavano nel bel mezzo del rogo di Atlanta furono girate successivamente e furono sovraimpresse alle immagini dell'incendio. Molte idee immaginate da Oseltnik erano assolutamente irrealizzabili, almeno per i mezzi tecnici di allora. Come la ripresa aerea della stazione invasa da migliaia e migliaia di corpi di soldati feriti. Egli voleva che la scena iniziasse con un primo piano di Rossella alla ricerca del dottore per Melania e che si allargasse sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a mostrare tutto l'orrore che la guerra stava producendo ad Atlanta. Migliaia e migliaia di morti e feriti che coprivano l'intera stazione dei treni per centinaia e centinaia di metri quadri. Ebbene, per quanto la scena risulterà una delle più belle e di impatto, però Oseltnik non era abbastanza. Voleva che avesse ancora più respiro, ma per fare questo avrebbe avuto bisogno di una gru molto più lunga e questo creò nel produttore un'immensa frustrazione. In realtà la frustrazione aleggiava sul set come nebbia fitta. Il problema nella produzione di Via col vento è che tutto appariva estremamente precario. Un giorno si decideva per una scena e il giorno dopo se ne girava un'altra. Le riprese andavano avanti per ore e ore, quasi senza sosta. I macchinisti cambiavano in continuazione e tutto era immerso nel caos più totale. Nessuno aveva davvero le redini della situazione e tutto questo si rifletteva sullo stato psicofisico degli attori, che era davvero al limite. Vivian Lee, che appariva in quasi ogni scena, fu quella che più di tutti subì lo stress delle riprese. L'attrice si alzava ogni giorno alle tre del mattino, andava al trucco e al parrucco, studiava la parte e insieme ai suoi coach studiava le battute cercando di riprodurre perfettamente l'accento del sud. Poi rimaneva sul set per ore e ore. Vivian, che aveva sempre avuto una salute precaria, si ammalò più volte, dimagrì moltissimo e prese a fumare fino a quattro pacchetti di sigaretta al giorno. E il suo corpo letteralmente si ribellò. Iniziò ad avere un'allergia violenta agli occhi che le prudevano dannatamente. La terra rossa che invadeva tutto il set che la produzione aveva importato dalla Georgia le provocò un rush cutaneo, le rese la pelle del viso secca ed esquamata. A complicare il tutto nel bel mezzo delle riprese si accorse di avere un ritardo. Temeva quindi una gravidanza, assolutamente non programmata, visto che non era neanche sposata con Olivier. Alla fine si trattò di un falso allarme, ma pare che prima di esserne certa l'attrice si divertisse a inventare modi in cui abortire senza ricorrere all'aborto medico. State inorridendo, lo so, ma questa potrebbe essere la verità, come una diceria, oppure una delle tante implicazioni della sua patologia, il disturbo bipolare di cui ha sempre sofferto e che l'è stato diagnosticato molto tardi. Anche Oselznik pativa molto lo stress della produzione, ed è anche comprensibile visto il suo proposito di farne il film più grande di tutti i tempi. Il produttore per combattere la pressione buttava giù pillole di anfetamine come fossero popcorn. Sì, perché per lui non dormire mai era l'unico modo per tenere tutto sotto controllo. Gli anfetamine annullavano la stanchezza, il sonno, e lo rendevano produttivo giorno e notte. Non considerando però che gli altri invece avevano bisogno di pause e di riposo. Il suo staccanovismo indotto dalle droghe lo rese ancora più ossessivo, maniacale e tossico, con il risultato che sul set si respirava un'aria malsana, di grande, grandissima tensione. Oselznik tormentava tutti per qualsiasi cosa, ad esempio non poteva tollerare che Vivian avesse un seno piccolo, talmente piccolo che su di lei i bei costumi scollati erano pressoché inutili. Lui avrebbe voluto che avesse un seno pieno, turgido, invece era quasi del tutto assente. Nella scena in cui Rhett, infuriato nero, sceglie per la moglie Rossella l'iconico abito invelluto con le piume per andare alla festa di compleanno di Ashley, la frustrazione di Oselznik e del regista Fleming raggiunse livelli impensabili, perché su di lei quell'abito non sembrava affatto volgare. Era tanto tanto scollato, ma in pratica non si vedeva nulla, tanto che il regista a un certo punto urlò «Ma nessuno può fare niente per quel seno, datemi un bel seno!». L'idea di Fleming era di rendere il personaggio di Rossella molto più odioso e insidioso di quanto l'avesse resa Cukorn, che invece ogni tanto lasciava intravedere un barlume di umanità nel suo personaggio. Fleming invece la voleva molto più capricciosa e indisponente di quanto la stessa Mitchell l'avesse pensata, e per questo non poteva avere l'aspetto di un adolescente, ma di una donna, con tutte le forme al posto giusto. Ecco perché il petto della povera Vivian venne massacrato da bende di contenimento per cercare di aumentare il volume del suo seno il più possibile. E fu talmente bardata e compressa che spesso la Lee aveva dei mancamenti sul set perché faceva fatica a respirare. Ma non solo, quando Fleming doveva indicarle come girare una scena, la sua battuta usuale era esagera, vai oltre, enfatizza. Fleming in sostanza la provocava costantemente per innescare in Vivian una reazione aggressiva. La voleva spietata, arrogante, cattiva e voleva che questo si vedesse sulla scena. Inutile dire che Vivian prese a odiare Fleming, dispotico, maschilista e con il fiato che puzzava perennemente di whisky. E per tutta la durata del film rimpianse l'assenza di George Cukor, un uomo amabile che le aveva insegnato tanto e di cui divenne grande amica. Al contrario, Clark Gable adorava Fleming e i due divennero grandi amici di bevute. Ma poi anche Fleming ebbe un terribile crollo mentale e per settimane non si faceva vedere sul set. Se ne accorse quella volta che guidando verso gli studios per poco non finì con la sua Cadillac giù per una scogliera vicino Malibu. A prendere le redini di quella baraonda infernale il regista Sam Wood, che nei fatti fu quello che diresse la maggior parte delle scene. Su tutto aleggiava il solito Oselznik che ingollava anfetamine e dava il tormento a tutti, dai costumisti da cui pretendeva abiti sempre nuovi, appariscenti e idee sempre diverse per il comparto costume, agli scenografi che chiamava nel bel mezzo della notte per cambiare un set. Nessuno riusciva a stargli dietro, proprio nessuno, e questo lo frustrava perché comprometteva il suo progetto di perfezione. Ovviamente dava il tormento anche ai macchinisti. La scena in cui Rossella declama la famosa frase «Lo giuro su Dio non patirò mai più la fame» non soddisfece a pieno Oselznik, che considerò la luce dell'alba mattutina troppo forte. Preferiva più la luce dell'aurora, così un bel giorno costrinse la truppa a presentarsi sul set alle 2.30 del mattino per rigirare la scena con un'altra luce. Anche l'attore Clark Gable aveva la sua bella dose di stress. Un divorzio difficile, un imminente matrimonio con la Lombard e un ruolo che proprio non riusciva a mandare giù. In più non aveva alcuna voce in capitolo sul suo personaggio. Era un attore in prestito e doveva attenersi alle disposizioni dei registi e dei produttori. Anche per lui occorsero lezioni per migliorare il suo accento del sud, cosa che l'attore digeri a fatica perché lo trovava inutile, tanto che alla fine rinunciò a farlo e declamò le sue battute con la sua usuale cadenza. Solo la moglie, Carol Lombard, di certo il suo più grande amore, riusciva a rabbonirlo. Pensate che un giorno gli fece pervenire sul set un calzino per tenere in caldo i suoi genitali. Sì, credeteci o no, è andata così. Il calzino era accompagnato da un bigliettino con su scritto, non farli raffreddare, riportameli a casa ben caldi. Ciò che spaventava più di ogni cosa Clark Gable era di deludere il pubblico, che a differenza di altre pellicole aveva già le idee chiare sul personaggio. Lo avevano già ampiamente idealizzato dalle pagine del libro della Mitchell. E se avesse disatteso le aspettative del pubblico? C'erano inoltre delle parti del carattere di Red Butler che Gable giudicava poco virili e distanti anni luce da lui, come la sua affezione quasi patologica nei confronti della figlia diletta e il fatto che in una scena Red dovesse addirittura piangere. La scena in questione è quella dove Rossella, incinta durante una lite con Red, cade giù dalle scale e perde il bambino. Il senso di colpa porta Red alla disperazione e, secondo il copione, il suo personaggio avrebbe dovuto sciogliersi in un pianto. Quando Clark scoprì che avrebbe dovuto piangere, andò su tutte le furie, rifiutandosi di girare, anzi minacciando addirittura di mollare il set. Non è da uomini piangere, disse. A convincerlo a girare quella scena ha una sua collega, credo la più equilibrata di tutti, Olivia de Evelyn, per cui Clark nutriva molta stima. Le ci volle un pomeriggio intero per convincerlo, ma alla fine ci riuscì. Gable girò la scena insieme a lei e alla fine pianse, e fu semplicemente formidabile. Nel video su Vivian Lee ho già parlato del rapporto fra i due attori protagonisti. Ma vale la pena riprendere il discorso. I due sul set si tolleravano a malapena. Gable in un certo senso era intimorito dal suo essere così algida. Vivian era indubbiamente molto sofisticata e di buone maniere, e davanti a lei si sentiva sempre un po' inadeguato. E poi Vivian era una macchina da guerra. Era sempre pronta, entrava e usciva dal personaggio con destrezza e imparava le battute con una velocità impressionante. Lui invece arrancava, faceva fatica a memorizzare, a entrare nel personaggio, e lo innervosiva parecchio che non avessero mai un copione definitivo da imparare. Detestava il fatto che ogni mattina ci fossero variazioni alle battute. Di certo, per ragioni di marketing, i due sul set dovevano sempre apparire vicini, amorevoli, per non rovinare la magia della loro straordinaria intesa sulla scena. Ma era tutto tristemente finto. Vivian, al pensiero di girare le scene d'amore con Clark, si sentiva mancare, perché a detta sua a Gable puzzava l'alito. Ma non solo perché fumava perennemente, ma anche perché soffriva di una grave forma di parodontite che gli aveva fatto cadere tutti i denti e che gli rendeva l'alito pestilenziale. Al punto che più volte la povera Vivian rischiò di perdere i sensi. A un certo punto Gable, per infastidirla, prese persino a mangiare aglio crudo prima di ogni scena con lei, e a quel punto la lì, per le scene di ballo almeno, pretese la controfigura. Ma non era sempre possibile, così la produzione chiese a Gable di imbottirsi di mentine, e solo in quel modo si riuscì a portare avanti il film. Un'altra star del film che avrebbe volentieri rinunciato alla parte era l'attore britannico Leslie Howard, l'attore che interpreterà il sognatore, il romantico e l'oggetto dei desideri di Rossello Ara, Ashley Wicks. Howard non si riteneva adatta a quel ruolo, era troppo più grande rispetto all'età del personaggio, ma in realtà era completamente disinteressato alla parte e al film. Accetto solo perché invogliato da un ottimo compenso. Non fece alcun lavoro di introspezione del suo personaggio, si rifiutò sempre di leggere il libro e si limitò a imparare le sue battute e quelle degli attori che in quel momento recitavano con lui. Del resto del copione non lesse mai nulla. Eppure, riuscì a riprodurre appieno la malinconia e la complessità del personaggio di Ashley, un sognatore e un idealista che vorrebbe solo vivere nella sua piantagione, protetto dai suoi libri, i suoi studi, circondato dalla bellezza della natura e consapevole che la guerra metterà fine al suo sogno di vita. Il senso del dovere lo spinge a partecipare a un conflitto inutile, violento e che porterà solo morte e distruzione. Una guerra che non vuole e che sa già che porterà via con sé il suo vecchio mondo. Ashley è un uomo triste che vive nel passato e nei ricordi. Ma forse quella malinconia era la stessa dell'attore che, senza alcuno sforzo, la trasmise al suo personaggio. La malinconia di un uomo che temeva il conflitto mondiale alle porte e che, come Ashley, voleva solo fermare il tempo e non dover assistere a ciò che sarebbe accaduto. Inoltre, pativa il fatto che, mentre in Europa si combatteva, in America si facessero i film, si pensasse a dove andare a cena fuori, a comprare l'ultimo modello di auto, si pensasse a tutto, tranne che alla guerra. Ecco perché Leslie Howard, non sopportando di dover fingere di provare allegria, non sarà presente alla prima del film ad Atlanta, ma sarà in Inghilterra, fra la sua gente, a combattere per quel mondo, la vecchia Europa che la Germania nazista voleva annientare. Leslie Howard morirà nel 1943, durante un volo che da Lisbona lo avrebbe riportato a Londra. Un'intera squadriglia di caccia della Lutwaffe aveva intercettato il volo e aveva abbattuto l'aereo. Nessuno, fra passeggeri ed equipaggio, si salverà. Anche la ricerca per l'attrice che avrebbe interpretato Mami, la domestica nera di Johara, sarà piuttosto ardua. Non è chiaro se Ozelsnik cercasse un'attrice professionista, oppure se gli andasse bene una qualsiasi donna nera con le caratteristiche fisiche descritte nel libro della Mitchell. Sta di fatto che sul tavolo del produttore arrivarono lettere e telegrammi di gente più o meno famosa, come Bing Crosby o Eleanor Roosevelt, che proponevano per la parte la propria domestica nera. Pensate un po'. Come se quel ruolo non contasse nulla e potesse essere recitato da chiunque, anche da chi nella vita faceva altro. A presentarsi ai provini per la parte, vestita come un'autentica tata del sud, un'attrice nera bellissima e con un fisico imponente, Hattie McDaniel. Hattie era una cantante gospel, autrice di testi e una performer, star della radio e conosciuta nel circuito teatrale come attrice brillante. Aveva anche partecipato a diversi film, piccole parti dove recitava nel solito ruolo della domestica nera. Ad ogni modo fece quel provino pensando che non sarebbe mai riuscita a ottenere la parte, perché il pubblico la conosceva come attrice comica. Ma a caldeggiare la sua candidatura c'era Clark Gable, con cui aveva già lavorato in Saratoga e che la trovava formidabile per quel ruolo. E con sua grande sorpresa il ruolo andò proprio a lei. Una parte iconica che le avrebbe dato fama e popolarità. E persino un Oscar come miglior attrice non protagonista. Il primo Oscar a un'attrice nera nella storia di Hollywood. Il ruolo di Mami però non mancherà anche di scatenare feroci polemiche fra le frange della popolazione del sud più conservatrici. Il personaggio di Mami, schiava nera a Tara, era fin troppo irrispettoso nei toni e nel modo in cui si rivolgeva i suoi padroni. Un tono troppo familiare che poteva essere di pessimo esempio per la comunità nera. Ci fu anche chi criticò la sceneggiatura e il libro per la totale mancanza di riferimenti biografici della figura di Mami. Una donna senza nome, senza figli, senza radici, che esisteva solo in funzione dei suoi padroni di cui era devota. Ad ogni modo la rappresentazione della comunità nera nel film fu aspramente criticata dalla stessa comunità, perché nel film gli schiavi neri erano rappresentati in un modo così stereotipato e macchiettistico che in molti ritennero via col vento un vero e proprio manifesto della supremazia bianca ed espressione della cultura segregazionista. Ma non solo, per molti è stata ritenuta offensiva la rappresentazione romanticizzata ed edulcorata della schiavitù nel sud degli Stati Uniti. Un po' come dire erano si schiavi ma non venivano trattati poi così male. Anche in Italia col senno di poi si è molto discusso sulla scelta del doppiaggio di riprodurre le battute recitate dagli schiavi di Tara e dal cast afroamericano in generale in un modo infantile sgrammaticato con quel tipico modo di declinare i verbi se non all'infinito. E di fatti di quel doppiaggio dichiarato anacronistico venne fatta una riedizione nel 1977, in cui sparirono le espressioni sgrammaticate dei neri di Tara, così come i nomi smisero di essere italianizzati come nella prima versione, ad eccezione di Rossella. Ma non fu una riedizione di successo e nei fatti il film è sempre stato riprodotto con il primo doppiaggio. Dalla questione sulla rappresentazione dei neri nei media è scaturita la decisione da parte delle maggiori piattaforme di streaming di trasmettere il film con un disclaimer di scuse per la rappresentazione stereotipata della comunità nera. Ma non solo. La HBO ha addirittura cancellato il film dal proprio catalogo, definendolo dichiaratamente razzista. La decisione ha diviso l'opinione pubblica tra chi applaudiva l'iniziativa e chi invece la vedeva solo come una mossa di marketing pro-inclusione e insopportabilmente politically correct. Ditemi che ne pensate fra i commenti, anche se so già che vi dividerete in due poli opposti, sono sicura. Ad ogni modo il personaggio di Mami, al netto di tutto, è assolutamente irresistibile e indimenticabile, proprio grazie ad Etty McDaniel, che le ha donato una luce e una forza inimitabili. Per il ruolo di Prissy, la piagnucolosa e paurosa schiava personale di Rossella, verrà scelta Butterfly McQueen. Butterfly impatì molto nel recitare quel suo personaggio estremamente stereotipato, senza spessore alcuno, ma lo recitò al meglio delle sue innate capacità recitative, cercando di darle quello spessore che il personaggio proprio non aveva. Butterfly, al contrario di Etty McDaniel, che amava il suo personaggio, odiò interpretare Prissy e, nonostante la fama che le donò, rimpianse di averlo fatto perché la imprigionò in un ruolo, quello per usare le parole di Red Butler, della negretta scema che le venne proposto più e più volte, impedendo alla sua carriera di spiccare il volo, nei limiti di quello che ai tempi Hollywood offriva agli artisti afroamericani. Ad ogni modo, il film, nell'incredulità generale, fu finalmente portato a termine nel luglio del 1939 e anche con un certo anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista. C'erano voluti tre anni per finirlo, tre anni che nessuno dei componenti del cast e della troupe, dal primo all'ultimo, avrebbero dimenticato facilmente. Un film che mise alla prova tutti e che ripagò con un successo strepitoso e senza precedenti. Il film che era costato poco meno di 4 milioni di dollari ne guadagnerà 400 milioni al botteghino, diventando il film di maggior successo della storia di Hollywood fino a quel momento. Record che deterrà per moltissimo tempo. Anzi, considerando i tassi di inflazione di allora, possiamo serenamente dire che quel record è tutt'ora imbattuto. Ma cosa affascinava e cosa affascina ancora oggi il pubblico di questa storia? Di certo i suoi protagonisti, così veri, autentici e complessi. Non di certo due eroi positivi, tutt'altro. Ma ritratti con tutti i loro limiti, le loro debolezze, le loro meschinità e, per questo, così attraenti e irresistibili. Ma anche forti, determinati, spietati e irrimediabilmente umani. La scena finale, quella in cui Red Butler abbandona Rossella dopo la morte di Melania, è la più struggente di sempre. E non perché sia romantica, ma perché spietata. Rossella, che anche nel momento di massima disperazione ha come unico pensiero se stessa, che ne sarà di me, che farò, mostra ancora una volta il suo insopportabile egoismo, mentre lui, con spietato cinismo, le dice, francamente me ne infischio. Nessun lieto fine, nessuna chiusura del cerchio, ma piuttosto una domanda e una preoccupazione. Che ne sarà di loro? Che faranno? Dove andranno? Torneranno mai insieme? Uno scambio di battute che non lascia scampo, ma lo spettatore ritrova il senso del film in quella battuta finale affidata a Rossello Ara. Dopotutto, domani è un altro giorno, che rischiara l'animo e ridà speranza. Ah, la famosa battuta «Frankly, my dear, I don't give a damn», recitata da Clark Gable alla fine del film, costò a Oseltznik la bellezza di 5.000 dollari. Sì, perché sottoposta alla revisione, la parola «damn» fu ritenuta una grave imprecazione e non passò l'eccessoio della censura. E dato che non c'era modo di edulcorare la frase dandogli la stessa forza, un esasperato Oseltznik decise di fregarsene e la lasciò così com'era. Egli pagò la sua multa e noi avemmo la migliore battuta finale di sempre. Il film è stato tradotto in 25 lingue e ha avuto un successo planetario, ma non solo. La pellicola nel 1940 ricevette 13 nomination agli Oscar, vincendone ben 8, tra cui miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista e non protagonista, miglior scenografia, montaggio e sceneggiatura. Clark Gable, candidato anche lui e super favorito, perse contro l'attore inglese Robert Donat per il film Addio Mr. Chips. La cosa lo urtò al punto che esclamò «Questi maledetti europei ci ruberanno tutto», volendo in qualche modo colpire anche la collega Vivian Lee, europea e vincitrice dell'Oscar al suo primo film americano. Nel 1989 la pellicola vinse il People's Choice Award come miglior film di tutti i tempi. Tanto altro ancora sarebbe stato prodotto da quella straordinaria macchina da film che è Hollywood e i suoi attori avrebbero girato ancora tantissimi film. Tanti sarebbero morti giovani, altri come Olivia de Evelyn avrebbero visto il mondo cambiare più e più volte. Fino al 2020 l'attrice fu l'unica superstite di tutto il cast della troupe che aveva lavorato al film. Ma quella magia e quell'incanto non si ripeteranno mai più. E siamo giunti alla fine di questo lungo racconto sui retroscena di questo straordinario film, tra i miei preferiti in assoluto, e che riguardo sempre con lo stesso identico stupore della prima volta. Chissà quanto ancora ci sarebbe da dire su questa pellicola epica. Ho fatto del mio meglio. In ogni caso, Rossella e Ret e le loro illusioni di vita sono e rimarranno sempre materia nuova e viva da sognare. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per rimanere aggiornati e seguitemi su Instagram se volete alla pagina Angolo del Crimine e ci vediamo sempre qui a The Hollywood Boulevard. Ciao!